Ciao a tutti, Kelly con il vostro friend finalmente posso portarvi alla nuova postazione, farvi vedere come è messa è un po' che dovevo farlo, un vloggino per ragionare un po' della situa, di cosa ho preso, cosa non ho preso updates vari allora è molto semplice, cominciamo da qui, la scrivania che è la scrivania dell'IKEA che tra l'altro è anche apribile molto semplice ma molto molto clean adoro un botto ho voluto restare su cose super funzionali per essere abbastanza produttivo ma allo stesso tempo ho avuto lo spazio anche per se devo girare i video poi c'è questa, l'Artura Minilab MK2 mi trovo super bene USB che dire praticamente tutto quello che compongo a tastiera o cose la faccio con questo tastiera PC normalissima invece, una Logitech la cassa della dita GBL Go scheda audio super super consigliata due speaker ozzi uno qui e uno qui che ho praticamente traslato da casa mia perché le avevo già nelle vecchie postazioni quindi super good to go e tra l'altro adoro perché non costano nemmeno 100 euro ma fanno il loro dovere fanno il loro dovere lampada per i night mood di diversi colori super cheap anche questa davvero forse la torta 30 euro monitor non so di che modello sia perché me l'hanno regalato so solo che è un 24 pollici della Dell full HD mi trovo benissimo ci vedo anche i film, le serie mic per registrare super easy anche questo è un microfono che avevo già a casa e l'ho traslato qui con la sua stand ho messo anche un minimo di tappeto giusto per e un tappeto qui per risolvere un minimo ma devo comprare qualcos'altro la mia spalla è un divano per rilassarsi discutere delle produzioni cose di chi viene a registrare per registrare cose quale pulsate dalla postazione invece questo bellissimo tavorello con 32 giga di ram due tela di dischi di storage memoria e flash veloci nuove con altro storage aggiunto da me una 3050 dell'invidia e un i7 13000 e 7 di ultima generazione direi tanta robella non è un super mega pc per la produzione musicale però è super sufficiente e finalmente non devo usare il portatile due pannelli che avevo già a casa fatti praticamente da me DIY uno qui e uno lì ah giusto una sedia comoda anche questa ce l'avevo già a casa l'ho traslata qui ma mi trovo benissimo anche questa dell'IKEA dimenticavo Ring Light 1 per girare i video Ring Light 2 più bassa che al momento non sto usando un treppiede unito ai vecchi monitor stands che non sto più usando mi sei creato tutto fine del tour però adesso mi aggiornerò